Lo scenario è cambiato e è cambiato radicalmente, innanzitutto perché il centro-sinistra non è stato in grado di dare delle risposte ai processi di globalizzazione e a tutto quello che ha comportato. La globalizzazione, così come l'abbiamo conosciuta, ha determinato una riduzione dei diritti sociali e un inasprimento delle condizioni della maggior parte della popolazione che non ha il reddito sufficiente per rispondere anche ai bisogni minimi e di civiltà. Un processo che ha determinato un arricchimento di quote minoritarie e molto piccole, sempre più piccole di popolazione, i super ricchi e ha visto un deperimento del concetto medio, degli impiegati, degli insegnanti, dei commercianti, dei lavoratori dipendenti che hanno visto perdere il peso nella società. Tutto questo è stato gestito da il blerismo, dalla nuova sinistra, dai Clinton a Yolland al PD e è stato punito severamente dagli elettori perché l'ha visto come il portabandiera delle politiche di austerità imposte dall'Europa. A fronte di questo sono esplosi, io concordo con la Franco, le proposte politiche e anche il sentimento di rivalza nei confronti di chi ha tradito la possibilità dell'ascesa sociale, che in questo caso è stato il PD. Con la base operaia del PD si è sentita la base tradizionale, non si è sentita più rappresentata. Ma neppure la scuola, neppure gli impiegati, neppure una intellettualità diffusa, una coscienza democratica progressista di sinistra diffusa che non ha più votato nel PD, nel centro-sinistra e purtroppo neppure la sinistra. Adesso il PD pensa di ripartire da se stesso, ma invece di ripartire dai problemi che hanno determinato questa sua debacle. Io da osservatore di quello che succede nel PD vedo che per ripartire ci vorrebbero le idee, ci vorrebbe una piattaforma politica, ci vorrebbe l'assunzione della responsabilità della sconfitta, non a parole. L'assunzione della responsabilità significa che abbiamo seguito una linea politica, per recuperare occorre un'altra linea politica, un altro modello di partito, un altro modo di interpretare i bisogni della società, un altro modo di rapportarsi con le banche, con gli speculatori finanziari, un altro modo di rapportarsi con l'Europa, un altro modo di pensare la guerra e la pace, un altro modo di immaginarsi le gerarchie sociali dentro la società. Se non c'è tutto questo è pur parler, non c'è problema voglio dire, Salvini e Di Maio andranno avanti alla grande, perché che cosa… Con i famosi 30 anni che dice Salvini, che governeranno… Che cosa c'è di peggio del PD al governo? Il PD all'opposizione, perché come vedete non è in grado di svolgere un'azione di contrasto, ma anche di un'idea differente. Dentro un quadro come questo purtroppo c'è anche gli sparghi della sinistra che ancora non si è liberata dal complesso del rapporto con il PD. Esisterà una sinistra solo e soltanto quando in maniera autorevole romperà tutti i cordoni ombelicali con un PD che ha passato dall'altra parte della barricata e sarà autonoma e indipendente nella sua proposta politica, nel suo progetto di società e di organizzazione per creare il quarto polo. Ci sarà il centro-destra, ci sarà Di Maio e i 5 Stelle, finché durano, ci sarà un centro-sinistra, ci sarà la sinistra. Se per la sinistra c'è questo schema avrà una possibilità di dire la sua nel paese, di giocare una partita. Se invece continuerà a balbettare, a essere incerta sul rapporto con il PD, anche in queste elezioni che sono state citate a livello amministrativo, la sinistra si è schierata in più modi, oltre che a dividersi, a Corciano era con il PD, ma non c'era un Bertide e non c'era a Terni, a Spoleto non si è presentata, c'è stata una situazione per cui nella fase in cui non si decide chi sei e come vuoi essere, e anche qui, su quale linea politica? Innanzitutto è capire il tuo rapporto con il PD, c'è la difficoltà di esistere. Siamo dentro operazioni di marketing dal mio punto di vista, perché io condivido un'analisi che parte dalla crisi della politica per come l'abbiamo conosciuto. al di là delle chiacchiere la crisi della politica deriva dal fatto che chi fa politica oggi non si batte per un modello di società anche alternativo rispetto agli altri, ma il modello di società è unico. Allora se il modello di società è unico diventa complicato per i cittadini e per i soggetti sociali individuare la propria rappresentanza, perciò non mi sfugge che un lavoratore dipendente vedendo che la sinistra, il centro-sinistra non è in grado di difendere i suoi interessi, vota la Lega, perché non avrebbe dovuto farlo? Continuare a votare a chi gli ha tolto l'articolo 18, a chi gli ha precarizzato il suo lavoro, a chi gli impedisce l'ascesa sociale, a chi costringe il proprio figlio a emigrare all'estero per andare a lavorare, fammi capire, io perché ti avrei dovuto votare? Esiste solo se c'è un obiettivo superiore che è quello di, però io lotto per un altro modello di società, non essendoci questo è evidente che c'è una crisi della politica e che anche chi tenta di fare un'analisi è considerato, però alla fine della giostra di che cosa stiamo a parlare, dirlo in 5 parole che facciamo prima. Allora in un quadro come questo io credo che sia la Lega sia i 5 Stelle hanno interpretato questa grandissima difficoltà e l'hanno interpretata anche ponendo delle questioni che dal loro punto di vista, rispetto al loro elettorato, al loro insediamento elettorale risponde a delle verità che sono una la diminuzione delle tasse. La seconda il reddito di città all'inanzo, a me non piacciono nessuna delle due, sia la flat tax che premia i ricchi e non tutti, che con meno tasse significa che alla fine ci saranno meno risorse per lo Stato per finanziare i propri servizi, anzi io la penso proprio all'opposto, occorre invece una società che ripubblicizzi i propri poteri, perciò le ferrovie, per la scuola pubblica, per la sanità pubblica, io sono per gli investimenti pubblici, sono in molti a pensarla così, è su questa dignità invece di riconquistare per il mondo del lavoro? Ma questo è solo slogan perché sul decreto dignità non c'è niente di tutto ciò, anzi tutto quanto andrà a peggiorare le condizioni della precarietà, perché un conto è dire siamo contro la precarietà, ok sono d'accordo, ma metti in campo dei provvedimenti che invece andranno ad accentuare la precarietà, allora anche qui è evidente che è un governo, il governo Salvini di Maio, perché è ovvio che Conte è ex allenatore del Censi, perché dopo il resto, che giocano molto su questo e oggi che cosa c'è? Oggi non c'è nel Paese e in Parlamento un'opposizione e quando Salvini dice la governeremo per 30 anni la butta là, ma dice ragazzi qui io faccio il governo e faccio l'opposizione, perché se c'è una cosa che lui presenta il decreto dignità io me ne vado al palo di Siena a dire caro Di Maio questa cosa non mi piace, ma sono io che faccio l'opposizione, perché il PD paradossalmente attacca il decreto dignità non da sinistra, ma da destra, da più a destra di Confindustria, c'è un'inversione di tendenza. E ripeto, non c'è niente di peggio del PD al governo che il PD all'opposizione. Ok, un attimo per ribadire alcune cose, per puntualizzare le cose che diceva la Franco prima, io personalmente non vedo grandi differenze nella gestione del fenomeno della migrazione dei profughi, tra il governo guidato da Minniti e quelli dei Salvini. C'è un problema che evidentemente bisognerà rifare un accordo con le tribù e la mafia libica, rifinanziarli, dopodiché tutti dicono che i confini dell'Europa vanno spostati in Africa molto più avanti, esattamente come prima si dice che il problema è un problema europeo che condivido dell'immigrazione, non credo che bisogna fare tante commissioni d'inchiesta, lo scambio è stato tra mi prendo i profughi in un trattato di Dublino firmato da Berlusconi e in cambio mi dai la flessibilità nel rapporto deficit-pilla. Questo è stato lo scambio. E adesso si torna a ritrattare su questo, tutto sto putiferio, sono d'accordo anche qui con la Franco, è la grande capacità di Salvini di stare sul pezzo, anche perché non è contrastato da nessuno. Di Maio è un cagnolino che si adegua insieme a Tontinelli e mi sembra che da questo punto di vista ci hanno solo delle autostrade davanti, ovviamente la questione è molto più complessa, non è solo la Francia con la sua politica coloniale e imperialista, ma è tutto l'Occidente che va a portare via le risorse fondamentali e il futuro all'Africa. E ovviamente essendo centinaia di milioni di persone, giovani, forti e molto coraggiosi, molto più coraggiosi di noi, è chiaro che alla fine attraversare il Mediterraneo per costruirsi una nuova vita non è quello il problema. e non sarà questo il problema se non c'è una nuova idea di come stare al mondo per la vecchia Europa. Che facciamo dell'Umbria? Non so se vogliono fare rimpasti o meno, mi sembra che sulle motivazioni della sconfitta da parte del PD, perché sostanzialmente la giunta regionale è un monocolore del PD. Non c'è stato nessun genere di analisi, mi sembra che l'ha scolti totalmente disprovvista, anzi loro dopo il primo turno pensavano che secondo turno sicuramente avrebbero vinto con grande possibilità di vittoria a Umberti e a Spoleto e questo gli permetteva anche, se non può ringraziare, per controbilanciare te, tutto questo non è avvenuto. Se posso dare un consiglio da esterno è che dovrebbe azzerare la giunta della Presidente Marini, tutti a casa e a ridefinire 3 o 4 obiettivi per i prossimi due anni. Questo sarebbe il minimo sindacale da fare azzerare l'attuale giunta. Dopodiché io invito la sinistra invece a già organizzarsi per adesso, per le prossime comunali e per le regionali e ripeto, bisogna organizzarsi in maniera autonoma ed indipendente da questo PD, sia pensando a Perugia, perché Perugia è invece contendibile, contrariamente a quello che ci dice, è una città che è stata per 4 anni senza governo e senza opposizione e nella sua crisi è ipercontendibile a Romizzi. Ci vorrebbero qualche idea e qualche volontà da mettere in campo. La stessa cosa, il passaggio su Perugia deve essere un passaggio per la regione, che occorre che una sinistra con una nuova idea di regione si mette in campo in maniera autonoma e alternativa a tutti, per proporre una sua idea rispetto alla regione. Ma ovviamente prima di arrivare alla regione, per quanto ci riguarda, ci sono le elezioni europee e anche qui sarà una battaglia non secondaria, perché sono d'accordo, bisogna cambiare radicalmente questa Europa, bisogna cambiare radicalmente questi trattati, perché per dare ragione ancora alla speculazione finanziaria, alle banche e ai grandi industriali, no, ci vorrebbe un'Europa sociale, per questo c'è un grande terreno di battaglia politica. Allora, come dovrebbe essere l'impegno politico oggi? Rapidamente. Deve essere disinteressato, impegnato, perché la politica significa conoscere le persone, i problemi e la teoria.